In questo video andremo a rigiocare a Brawl Stars dopo un mese Vediamo cosa c'è, infatti oggi andremo ad aprire le Star Drop e anche le Mega Cass Secondo voi cosa troveremo? Lasciate like e iscrivetevi, guardate il video fino alla fine per vedere cosa succede Ok, siamo adesso su Brawl Stars dopo tantissimo tempo Sono tornato a Brawl Stars dopo un mesetto circa E come vedete nel negozio oggetti sono uscite un sacco di offerte Sono uscite 7 Mega Cass perché so che sono tornato alle Mega Cass Ma sono anche tornate 42 Star Drop Ma ovviamente ragazzi io sto registrando questo video in live Quindi siamo 150 persone in live Oh Andre 1000 e Nikito grazie comunque per le donazioni su TikTok E guardate un po', ci sono un sacco di cose Quindi oggi apriremo tutte quante Ma per aprile dobbiamo superare una sfida Devo vincere una partita su Brawl Stars dopo tantissimo tempo Vediamo se ce la faccio Userò Edgar Quindi andiamo subito in solo e vediamo se riuscirò a vincere Ok ragazzi come vedete siamo adesso ritornati Qui adesso siamo in partita E c'è già quello col profumo che mi sta sulle scatole Quindi dobbiamo vincere assolutamente Vediamo un po' C'è Frank quindi io aspetto che loro si ammazzano Faccio così, faccio così, faccio così Sì, ok, li ho ammazzati entrambi Ragazzi, sono troppo forte Ragazzi sto scherzando, faccio veramente schifo Tutti i miei fan lo sanno che io faccio schifo su Brawl Però va bene ragazzi Io lo ammetto ragazzi, faccio schifo Però io cerco di impegnarmi, vediamo un po' Intanto ci sono questi che si scagnano tra di loro E io adesso voglio fare una roba Vai, vieni qua Dai vieni qua Non scappi io Vieni qui maledetto Perché scappa? No, io non ti lascio andare bro Dai, perché scappi? Ragazzi secondo me sto tizio ha paura Vabbè, andiamo qui No dai, mi ha fregato sto maledetto Oh mio Dio, cosa ho fatto? Ok, l'ho ammazzato ragazzi Aveva otto di quelli grossi Del potenziamento E io adesso sono da solo contro un altro Quindi, se io la vinco Cioè, a caso Vabbè, questi sono tutti bot Quindi, ragazzi, è normale che la vinco Ora vediamo un po' Dove si è nascosto? Scusatemi Ragazzi, non capisco Ragazzi, ma sta usando un glitch? Eccolo Oh, brutto fettente Cosa ti nascondi? Ti lascio lì così mori dalla tempesta E adesso cosa fai? Vai, stai lì pure Vai, vai, vai Boom Boom Vittorio, ragazzi In tasca Ok, ragazzi Quindi adesso Possiamo aprire qualcosa Oh, e ho già sbloccato un star drop così Gratis Va bene, ragazzi Va bene Quindi Niente, ragazzi Ho sbloccato quello raro Vabbè, ragazzi Quindi andiamo subito nelle cose Oggetti Ragazzi, come devo aprire? Mega casse O le star drop? Allora Qui su TikTok Siamo in 300 persone in live Benvenuti a tutti, ragazzi Benvenuti Sto registrando video qui su YouTube Vabbè Comunque Tutte le mega casse, ragazzi Siete sicuri? Quindi dovremo aprire le casse, ragazzi Siete sicuri? Va bene Le apriremo Quindi vediamo cosa troveremo Io, ragazzi Sono stracorioso Ok, ragazzi Vai, apriamole Quindi apriamo delle casse Ne apro tre, ragazzi È la prima volta, ragazzi Che io apro le casse, eh È la primissima volta Non so cosa uscirà Sei colpi Bene Dei monete Delle gemme Questo Raddoppio XP Bling Un'illuminazione, ragazzi Già una cosa buona Vediamo Eh, skip per Frank Ragazzi Non ci lamentiamo, eh GG Stile per Frank Vediamo cosa trovo Come la seconda cassa Bling Raddoppio XP Moneta E questo È un'altra illuminazione Uh Bombardino D'oro Ragazzi Ma io trovo solo skin Oh Ragazzi Non sto trovando niente di che Solo skin, ragazzi È assurdo Ok Eccoci qua, ragazzi Allora Ecco Quello che scrivete voi di TikTok Si vede, ragazzi Quindi Salutate tutti di TikTok YouTube Ok Scrivete tutti Ciao YouTube Così si veda Va bene, ragazzi Vabbè, qui non c'è niente di che Ok Vediamo cosa trovo in questo Stadrop Non so, ragazzi Eh Cosa trovo E Vabbè, comunque Monete Bling Raddoppia XP Punti Energia E Sempre La nuova skin Di Bombarolo Ragazzi Ma io voglio trovare nuove Non le skin Voglio trovare nuovi brawler Non skin, ragazzi Le skin non mi interessano, ragazzi Le skin non mi interessano Comenta Quindi 120 mette Bling Raddoppia Reazioni E 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 Credo che sia Questo, ragazzi Sia l'ultima Cassa Quindi Vediamo cosa trovo, ragazzi Io non dico niente Vediamo Punti energia Raddoppia XP 103 gemme, ragazzi Molto buono Bling E reazioni, ragazzi Niente Ah, ce n'è ancora un'altra Bene Vediamo cosa trovo qua Moneta Bling XP Bling Icona giocatore Ragazzi Non c'è niente di che Va bene Le ho aperte Oh, ragazzi Apriamo le star drop Sono 42 Star drop Ragazzi Sono tantissimi Ma Vabbè Quindi ragazzi Però per Aprire star drop Vinciamo un'altra partita E la voglio vincere Con Frank E usiamo Il suo costume Che ho sbloccato Che è questo Quindi Questa Frank Voglio comprarmi qualcosa Io c'ho 3000 Bling Ragazzi Con 3000 Bling Vorrei comprarmi Io voglio risparmiare E comprarmi questo Questo è un figo Cioè È una figata Quindi Usiamo Frank Cavernicolo E vinceremo Un'altra partita Siamo in 500 persone Benvenuti a tutti Vediamo ragazzi Allora cosa facciamo Il Brawl Pass Non l'ho ancora comprato Quindi lo devo comprare Ragazzi Chat Volete che compra anche Il Brawl Pass Spam di sì o no Dovrei comprarlo Perché io non ce l'ho Ragazzi Il Brawl Pass Ancora Vabbè Comunque Facciamo una sfida Io ragazzi Adesso Ho invitato Qualcuno adesso Di voi In live E oggi Devo vincere una partita Quindi infatti Lui ha salutato Molto amichevolmente Grande bro Facciamo una bella coppia Perché ragazzi Ricordo Se venite live Potete giocare anche con me E magari partecipare A qualche video Quindi se volete Venite anche su Twitch Mi chiamo MisodilanTV Trattino basso Ok ragazzi Siamo in partita Con questo mio fan Vediamo un po' Se è bravo a giocare A Brawl Quindi mi raccomando Bro Impegnati Tu con Edgar Cioè Edgar Mi piace come Brawl Ma averlo come avversario È una spina nel fianco Ragazzi Eh voi non potete capire Vabbè Comunque Vediamo chi Adesso sblocco È già rinato Ma Vabbè Vabbè Colpo finale No Ragazzi Non è così facile Come sembra Ah ecco Era morto il mio compagno Dai Edgar Perché scappi Hai paura di noi Edgar Non scappare però Maledetto Infame Ragazzi Vabbè Vediamo un po' Dove è finito Vabbè Ragazzi Non è andata molto bene Questa partita Facciamo un'altra Vabbè Comunque terzi Dai Mi sono accontentato Ok Visto che la partita Di prima Non è andata abbastanza bene Facciamo adesso Un footbrawl Quindi vediamo un po' Cosa andrà Vediamo un po' Ok L'ho ammazzato No No Prendi la palla Ah Maledetto Tu cosa vuoi dalla mia vita Io adesso ti prendo Ti faccio pezzi Ti dovrebbe fare gol Non attaccarci a vicenda Ragazzi Dai raga Mettete Sì Grande Excalibur La spada della leggenda Excalibur Vince la partita Vediamo un po' Ok Dai Tira Vai Io ti proteggo bro Gol Sì M'ho segnato Vittorio ragazzi Grazie alla mia parte Ok Ragazzi Apriamo le star drop GG Quindi Andiamo subito ad aprire Andiamo sul negozio Ecco Apriamo tutte le star Sono 42 star drop ragazzi Ma sono tantissime Vabbè Vediamo Raro Super raro Super raro Super raro Ragazzi tanto so già Con la mia fortuna Non troverò niente Super raro Epico Epico 100 Vabbè Almeno sbloccherò il brulo Raro 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 Epico Ragazzi ma è impossibile Trovo solo epiche o rare Why Raro Raro Ok voglio provare un trucco Fallo col naso Ragazzi Vediamo se riesco a portare Raro Raro Ragazzi il naso ha funzionato Il naso ha funzionato ragazzi Spam di GG Perché il naso ha funzionato 3 2 1 Vai Maxin Leopardo Ok ragazzi il naso funziona Ok Cioè il naso ragazzi È un metodo buono Per trovare roba Va bene Ragazzi riprovo col naso Ah vabbè Mi sembra Ok Vabbè Ci sta ragazzi Sì ma io voglio trovare Nobi brawler Cioè Delle skin Non mi interessa niente Ragazzi Vabbè vediamo Ragazzi Vabbè 50 moneta Riproviamo col mignolo Ok Col mignolo 1 2 Sempre raro Super raro Mitico Ok Mitico Almeno mitico Ragazzi È buono Mitico 200 crediti Epico Epico Sempre un altro mitico Mi provo col naso Eh vabbè Ragazzi Vabbè è stato bello Comunque Cioè è stato bellissimo Raro Super raro Epico Ragazzi non sta trovando niente Cioè è stato fortuna Tanto ragazzi In questi star drop Vi dico Non troverete mai niente Oh Ok Legendario Ragazzi Spam di gg Ragazzi Ragazzi Spam di gg Un altro leggendario Buono Ok Ragazzi Ragazzi lo apro Spam di sì o no Ragazzi se volete che lo apro Facciamo così Ai 50.000 like Lo apro Quindi lasciate un bel like Facciamo un po' di suspense Ragazzi ai 50.000 like Lo apro Quindi lasciate un bel like Tutti quanti Perché lo apreremo 3 2 1 Abilità stellare erborista Rosa ricupera 270 punti salute Al secondo quando si trova nei cespulli Cioè una Ragazzi ma che schifezza è sta roba Oh Ragazzi ma è una schifezza atomica eh Se ci pensate È una schifezza atomica Raro 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 Ehm L'apro Così vediamo così È un po' raro Cioè niente Gravo col naso Niente Non funziona Mitico Vediamo Graffiti Cioè Mi fai trovare i graffiti Nel mitico E poi è epico ragazzi Non è possibile Ragazzi Io sono sfortunato Ragazzi Ragazzi Scrivete Hashtag Fortuna Se mi volete farvi Fortuna Ragazzi Voi dovete scrivere Fortuna Ragazzi Dai Se scrivete Fortuna Io avrò Fortuna Ragazzi Dai Spammate Fortuna Ragazzi Bravi Tutti Bravi Così almeno Trovo qualcosa Di utile Ok In questo Raro Raro Niente Ragazzi Non trovo più niente Ragazzi Io sono sfortunato In queste robe Vi giuro Riprovo col naso Ok Il tocco del naso Mai mi ha abbandonato Proviamo Con Ragazzi Sto provando Di tutti i modi Ragazzi Non c'è niente Vi giuro Cioè Ragazzi La cosa più sfortunata Della mia vita Ragazzi Non sto trovando niente Super rare Ragazzi Non c'è niente Epico Ok Già Buono Rare Ragazzi Non c'era niente Ragazzi Ripro C'è proprio una merdata Assoluta Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi è piaciuto E noi ci vedremo In un prossimo Video Ciao belli